Eeeeee, ciao cari sono Atrix, signori bentornati cari del canale, regà torniamo su Arston, oggi è l'ultimo giorno di season quindi cercherò di runcare un po' fin dove posso chiaramente E oggi ho messo l'occhio su un deck che solamente a guardarlo mi sta casando un casino, ma aspettate che ve lo faccio vedere pure a voi Eccolo qua cari, allora di base, vabbè è un paladino e questo penso si riconosce abbastanza facilmente dal fascino dei Uther Cari è chiaramente un midrange, ma come potete ben vedere è parecchio differente dal solito midrange Murloc Pala Perché direte voi, beh è abbastanza semplice, prima di tutto cari la scelta di inserire il doppio granchio Ora non so voi ma io sto beccando tantissimi, forse troppi tempo rogue E mettesci i granchietti sapete che è sempre un'ottima cosa Poi cari abbiamo questa valangata di pirati, non so se vedete il corsato del terrore che chiaramente scoma molto bene con la lama della dunata Chiaramente cari ci sta il nostro Patches e poi ecco lì che spunta il capitano belleverde Come per farmi capire che forse il mio rag dorato è stato un buono shard Fondamentalmente cari poi di base è simile al solito mid Murloc Pala Anche se abbiamo i due malascale di cobalto che solitamente non si girano E cari l'imponenza otto de mana del nostro Leech King Che in late game, voi sapete bene, potrebbe darci soddisfazioni notevoli Signori il deck a vederlo così a me piace tantissimo Ora chiaramente cari lo andremo a provare a live insieme Vi invito chiaramente a lasciare un bel like Prima o dopo il video nel calore a questo vi fosse piaciuto E io partirei subito Aspetta, bevo un po' di caffè e poi partiamo Bene carissimi, allora prima partita con Malfurion subito Mi ho beccato tutto il test di ronga, ma caro te che c'entri Va a me capire, così per curiosità Allora, Marlock in voca me ne mi piace molto Mi piace anche cari la lama e il Corsaro in realtà Il problema, qual è il problema? Non lo so in realtà qual è il problema Levare il condottiero? In vista di un altro Marlock? Lama Corsaro, se è comunque un Jade Chietto, se è un aggro è buona però Se dovrebbe essere un aggro... Ok, ottimo il cacciatore cari, meno male Perché ripeto, se è un Jade non ci sta tantissimo come combo Lama in tu Corsaro il turno dopo Nel caso in cui invece sia un aggro, la lama è molto forte Contesta il Vicious Contesta un sacco di roba carina Se parti col Jade Idol mi potrebbe da fastidio, eh Proprio sincero Ok, non parti col Jade Idol, quindi questo mi da meno fastidio Chiaramente partirò col Marlock cari che è il miglior Droso Ma tutto per avere... Perché avete di follow up Perché ho di follow up il cacciatore Già una rat qui lui potrebbe utilizzarla Cari abbiamo fatto bene a tenerci la situazione Abbiamo fatto bene Voglio tradarlo? Per costringere a giocare Hero Power? O voglio andare di Coin Lama? Se parlo di Coin Lama potrebbe giocare però Il Pirata Togliermi l'integrità Penso cari che questo sia la miglior giocata Ho un buon Value Trade A me non mi interessa che utilizzi Hero Power Tanto se usa Hero Power comunque perde un turno Non andiamo di Lama e passiamo probabilmente Ok, ho anche Value per la Lama Pensate quanto so contento Qua chiaramente Fridrado Sperando che... Interessante pure lui Sapete in realtà Ma la Lama Qui cari mi piace molto La Lama qua mi piace molto E... Io penso cari che valo di Coin E gioco il Bucaniere Io penso che valo di Coin E gioco il Bucaniere Perché voglio giocare intorno Al suo pirata Voglio levarmi i patchi dal deck Giocare intorno al suo pirata Voglio mettere il board Per poter tradare qualsiasi cosa lui mi gioca Tanto io riparto comunque Di condottere il turno dopo Perché comunque il mio Marlock Il mio Murlock deve rimanere Vedete cazzo? Ok abbiamo avuto Value Con la signora Ok non ho problemi caro Per questa tua giocata Particolare Tutto cari sotto controllo È andato tutto Come volevamo 4 Chiaramente Traddo E chiaramente caro di 1 faccia Abbiamo un buon trade Sul 2-3 Abbiamo cari Un'ottima mano Un'ottima board Penso che sarà gestita bene La partita Penso che Ha poco da fare Certo Un suo comeback potrebbe essere Living Mana 3 carte Se c'è Living Mana È tutto cari Da ridecid C'è Living Mana Ma non me lo dire caro Sono quasi Dispiaciuto Sono parecchio Dispiaciuto Granchio di Colacca Chiaramente cari Mi arriva troppo tardi Vado con Manascaglia Traddo 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 Oppure vado un faccia Eh Una decisione particolare Lui ha già giocato il buff No vado faccia cari Lui ha già giocato il buff Non dovrebbe avere un altro buff a 1 Perché l'ha appena giocato Cioè l'ha giocato praticamente adesso Mi buffi quello migliore caro Sono contento Non puoi avere anche il buff a 1 caro Non può dirti così bene È impossibile per l'appunto cari Questo è proprio quello che volevo Quindi mi tratterà lui La partita è vinta La partita è assolutamente vinta Non penso ci sia Un suo comeback Dignitoso Ha il pinguino caro Che simpatico Te lo toglierò molto probabilmente Ehm Ok Interessante sta giocata eh Ok Mi interessa proprio tanto Baffare lui Scuro di vino Va bene Ehm Gli tolgo cari chiaramente la bestia Gli tolgo la bestia Ehm Metto granchio Metto sicuramente granchio Ehm Allora ora qua potrei già iniziare a giocare Un po' intorno Ehm Però se io Se lui è l'idra Me la potrebbe mettere turno 5 Io non voglio l'idra Quindi posso tranquillamente andare in faccia Non mi buffare il 2-1 Mi stai buffando quelli migliori caro Sono Ne sono grato Chiaramente non può giocare l'idra Può giocare savage roar Che chiaramente è forte Il granchio non mi dà problemi Visto che c'abbiamo pirati cari Tutto Tutto sotto controllo Troppo trade Trade qua Ehm Faccia Io chiaramente caro Continuerò a fottermene Del tuo 2-2 Oppure no Vediamo Lui chiaramente non è che mi piace tantissimo Gioco lui Ehm Sì cari Penso che qua Gli traddo tutto Gli traddo tutto Gli levo qualsiasi value Per esempio Che ne so Al marchio di Sharage Lei caro Mi ha baffato sempre Le cose migliori Lei invece caro È un po' lo stronzo Forse che è entrata adesso E si deve riscaldare Ammetto la sconfitta Cari La prima è andata In noscialance Decca sapevo che mi interessava Andiamo alla prossima Perfetto cari Ok ma immaginavo Che se nella prima E la seconda Chiaramente Becchiamo Gaina Chiaramente Becchiamo Palera E Mi serve che lei caro Mi dia un bel granchietto Incazzato nero Infanizzato Chiaramente il Marlock Il Murlock Ce lo teniamo Leviamo tutto Che è estremamente lento Ehm Sarebbe interessante Prendere il granchio Purtroppo cari Non è proprio quello Che volevo Diciamo Non è proprio la mano Che volevo Continua a non essere La mano che volevo È una mano veramente Veramente brutta Veramente Veramente brutta Qualsiasi tipo di Murlock Va bene il turno dopo Ehm Qualsiasi caro Però lei me lo deve dare Lei me lo deve dare Lei me l'ha dato Lei è una persona Molto Molto accondiscendente Sono contento Chiaramente caro Utilizzerà l'Iro Power Ma ci sta Va benissimo Molto meglio così Che Iro Power Perché avremo altrimenti Fatto Iro Power Ora che voglio Come draw Come top deck Qualsiasi cosa Di giocabile Con qualsiasi Intendo Non il Megasauro Chiaramente Non intendo il Megasauro Chiaramente che giocheremo Chiaramente cari Di turno dopo Visto che Chiaramente il draw migliore Ehm Ok Lo utilizzerò lo stesso Molto probabilmente Qua lui è costretto Chiaramente a fare So trade Non è proprio Non è proprio così Che me l'ho immaginata Stata artita Però vabbè lo stesso Andiamo di Megasauro Ehm Più tre salute Orantolo Penso Orantolo Cari Penso Orantolo È il migliore Perlomeno mettiamo Un pochino del board Possiamo iniziare A costruire la value Per il destero Che in due turni Cari io lo devo giocare Certo c'ha la vile erba Non c'ha sapo Questo è positivo Ora la vile erba Mi potrebbe che era problemi Meno male Non ha giocato Che anche se la nostra mano È oggettivamente brutta O meglio È stata brutta In Irly Perché non abbiamo i granchi Cari Mi si apposta chiaramente Per deck Di questo tipo Va bene Però per fortuna mia Cari la so giocata Non è così significativa Bello sghigno Grazie caro Gentilissimo È stato Proprio Grazie Grazie Ovvio Sono contento Di questa situazione Sono proprio contento Di sto fatto Proprio contento Di sto fatto Devo traddare chiaramente Il pirata Per evitare la sua value Questo vabbè Queste cose a me Fanno girare il cazzo Capito Ma un pochino Non puoi vendermi lo sghigno Caro Con tutto il ben di dio Che mi potevi da Ecco È bilerba E sto fottuto E mo Sono fottuto Ma è matematico E per forza Sono fottuto Non posso non essere fottuto Perché Inquisitore Pfff Vaffanculo Vai Vai parare il culo Vai parare Pfff Dio santo Guarda Corsario Power Oppure Perché mi tengo lo sghigno Per giocare il destriero Pazzesco Veramente Pazzesco Vabbè Sghigno del destriero Sarà sicuramente La mia giocata Lui farà sicuramente Questo trade Kern Se è bravo No vabbè Non può traddare Col 5-2 E probabilmente Icari Ho un po' cantato Un po' cantato Incubo d'ossa Non proprio quello Che mi piaceva Però vabbè Non me lamento tantissimo Questo chiaramente Icari È un trade Che va fatto Per forza Devo farlo assolutamente Lui Traderà con Kern Sperando che il 2-6 Mi rimanga Posso giocare Incubo d'ossa Inquisitore Vado di tiro Nel turno dopo Mi è andata Papote sfiga St'artita Quindi c'è poco da fa Insomma È praticamente una partita Che è già scritta Questa è già scritta Sta partita Non Difficilissimo vincere A meno che lui Veramente Non ha merda in mano St'artita è veramente Difficile Da tirarla su Vediamo Chiaramente Se mi rimuove il 2-6 Vado di tiro Penso che me lo rimuova 2 Assolutamente Me lo rimuove Però perde la viderba Questa è L'unica cosa positiva Perde la viderba Non perde la viderba Va bene Tirion Caro Penso che È il turno suo Potrei andare Di inquisitore In cubo d'ossa In realtà In più che Tirion Questo è un 5-8 Forse è meglio Che Tirion Lo sapete Forse è meglio Che Tirion Qua Questo è un 6-6 Mi procca con lui Gioca loro 2 Mi piace di più sta cosa Body più forte Tanto Il fatto che abbia Squadivino Non mi interessa Perlomeno Fa questo doppio trade Che farebbe comunque Ma ripartiamo Con un 5-5 Che possiamo ribaffare Con l'incubo d'ossa Questo è il motivo Per cui ho fatto Sta giocata Ma Chiaramente Cari Penso che C'è poco La fa A prescindere Diciamo A prescindere Potrebbe avere Backstab Che mi farebbe Parecchio male Lui mi fa male Questo pure Eh insomma Una parola Una parola Una parola Velossa Vado a abbaffare lui Vado a trattare lui 7 11 E 2 off Vince con tantissime carte Come il pirata 2-1 con carica Con Chiaramente Con Con l'Heroi Jenkins Vince con Con Blood Vince con un sacco Di roba Ma Non posso Cioè non ci posso Fa niente Nel senso Ah vince chiaramente Anche con la Vilerba Non ci posso Fa niente Per le carte Che abbiamo preso Purtroppo la curve È stata veramente Veramente Sfavorevole Mi dispiace Un po' In realtà Ok Sceglie di non Prendersi un anno In faccia Perché ci può pure stare Ce l'hai Sti due anni Vabbè Penso che sta Ma aveva l'Ital Cioè con chi sto giocando Con un celebro leso Cioè lui aveva l'Ital L'ha missata tantissimo O forse no Sì che aveva l'Ital Caro ma lei è un pazzo Vabbè ho perso lo stesso Ripeto ma Buona Prossima Va bene Va bene Mantengo la calma Finché posso Finché posso Mantengo la calma Avrei voglia di spaccare un po' tutto Ma mantengo la calma Allora La prima partita Ho fatto partire benissimo Col Murloc Ora chiaramente Non c'è da più Un Cristo De niente Un condottiero Chiaramente non lo tengo Perché c'ho il coin Oh finalmente Cristo santo Finalmente la mano decente In quattro partite Due volte la mano decente Due volte Una fillena Anche se è partita Prima in realtà Vabbè Ci stava Ci stava Ci stava Cosoli Sapeggere ora Anche se ci ha pensato Una vita Questo non si è capito Perché Vado cari di Murloc La Firivorax Non ce l'ha Per fortuna Aggiungerei io Quindi sicuramente Il turno dopo Andiamo di cacciatore Baffiamo il nostro 1-2 Diventa un 3-3 Ripartiremo Partiremo Penso col Murloc Al turno 3 Facciamo un po' Dei danni che servono Abbiamo lo spadone Turno 4 Ecco Questa è una curva Accettabile Cioè questa è una curva Veramente veramente forte Questa è sempre il mid Murloc Che è sempre un deck Che sapete Al malica dipende parecchio Per l'early game Sapete l'early game Cari scadente Come quello di due partite fa C'è veramente poco da fare Insomma Potete fare veramente Veramente poco 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 Lui mi gioca L'Armosmith A me sta pure bene Chiaramente caro Ti faccio 3 danni in faccia Perché non ho alcun tipo De senso Tratto all'Armosmith Mi farebbe male Una Firivorax Dove essere sincero Nel caso di Firivorax Io chiaramente Vado di condottiero E ti traddo l'Armosmith Penso Penso sia la giocata più forte Non voglio giocare il coin Magari tenere un po' L'incubo ad ossa Ok T'ho beccato Una buona contusione Peggio per me Cioè Peccato Sangue di core Ci sta Va bene Ok Mi serve a niente Il granchio Mi serve proprio a niente Il granchio Me lo voglio lasciare il coin No gioco sta cazzo De spada subito No mi sa che vado di Murlock Faccio value trade Devo farlo chiaramente Il value trade qua Sangue di core Mi ha spiazzato un attimo Ma giusto un attimo Vorrebbe essere anche un tempo Lui Eh questo è forte Questo è forte parecchio Questo è forte parecchio Eh Sì ma mi devi dare qualcosa Di giocare Non è destino Non è destino Non è destino Non è Non è Non è possibile Corsaro Mica sarebbe malissimo Non ho niente Ho sempre Ho sempre questi due bonner in mano Cioè che ci faccio Cosa faccio Mi devi da un Dammi qualsiasi cosa De giocabile L'inquisitore mi da Mi da lei Mi da l'inquisitore Uno Due Tre Non ha manco senso colpitarlo a lui Tanto abbiamo il bonner di turno dopo Sperando non ci distrugga tutta la board Anche no Può farlo in realtà Può farlo Tradda Tradda Lui Penso che sia la giocata migliore Per giocare intorno a bomber Io chiaramente non ho Nient'altro da giocare Ho zero Giocherò chiaramente La tua silver su 5 e 2 Ma poi che faccio Pesca la fine pure questo Che cazzo sto giocando Corsaro Non male il corsaro Non male il corsaro Coin Lui Chiaramente gli puscio faccia Chiaramente traddo Questo è il miglior top deck Che potevo fare Il corsaro Il migliore Il migliore che potevo fare Per darmi Per darmi la value Dell'incubo d'ossa Ora chiaramente cari qua Sti cazzi a brawl qua O io puscio tutto E subito Anche perché se è un tempo E lui è un tempo Non dovrebbe che brawl Però dovrebbe che While we Dividere fish No Va bene La smetta di giocare Caro La smetta di giocare Sleepy the fish Ce l'ha sicuramente Chiaramente cari Vado di lui Devo giocare intorno A sleepy the fish Lo so Mi risparmio due danni Ma Se io traddavo con lui Mi diventava 5-3 E mi è arrivata Sleepy the fish Ripeto Non so se ce l'ha Sleepy the fish Però Si è già giocato Un Un execute E questo a me va bene Inoltre Una giocata di questo tipo Se ci pensate Premia molto il fatto Che lui giochi Garrosh Cioè se gioca Garrosh Si ok Mi tratta il 5-4 Ma ci pende 7 schiaffi E questo mi rimane 7-1 C'è una giocata che per lui È improponibile Non la può fare Quindi mi piace Mi piace tantissimo Vediamo Vediamo quello che c'è Nel senso Sleepy the fish In questo deck Si potrebbe anche giocare Quindi Ci sta il fatto di Tontare il 7-5 Due danni in meno Va bene Ma se lui qua Non mi risolve la board Io gli pusho un casino Ecco Per esempio Sleepy the fish Adesso sarebbe abbastanza Fastidiosa Ok Non ce l'hai Mi fa piacere Mi fa parecchio piacere Questo chiaramente Va traddato 5-10-14 Cari io faccio l'in Io faccio l'in Perché confido Il fatto che lui Non ha né Brawl Né Sleepy the fish Perché ripeto È un tempo È un tempo warrior E essendo tempo Cioè giocare Brawl Sleepy the fish Molte volte va contro lui Perché va contro Proprio la sua giocata È contro il board Che mette lui Quindi Proprio confido Sul fatto che lui Non abbia OE Nel caso in cui Dovesse avere Brawl Potrei comunque Avere nuovamente L'ital per le carte Che ho in mano Cioè Nel senso Se mi rimane il 7-2 Se mi dovesse rimane Il 5-5 Ah ok L'ha presa chiaramente Brawl L'ha presa dal Murlock Ora l'importante Caro Brawl L'accetto tantissimo Che mi rimane qualcosa di mio Ok mi è rimasto qualcosa di mio 5 E siamo Little Bella partita Impressionante il cazzo Caro Quindi abbi pazienza Impressionante il cazzo Perché ho giocato con la merda Ho giocato Abbiamo vinto col top deck Chiaramente del Corsaro Prossima Allora cari Chiudiamo sto video Con 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 lo sciamano Allora in definitiva In definitiva cari È un deck Che non mi piace Non lo aspettavo molto meglio In realtà perché dipende Avete visto Troppo dal Mulligan Troppo dal top deck Non mi piace cari Non ha proprio quella consistenza Che io volevo In un deck di questo tipo Guarda Dipende molto più questo dal Mulligan Che il mid hunter Quindi per farvi capire un po' La situazione Vi lascia poco spazio Alle giocate Poco spazio alla skill Fate sempre la stessa giocata Se partite male Perdete Se partite bene Potete perdere tranquillamente Perché poi dopo dei cadi di merda Non mi piace cari Non mi è piaciuto Proprio sincero 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 A me questo deck Non mi è piaciuto Andiamo chiaramente cari di drologa La giochiamo In tempo play Penso che il codo Sia Il dro migliore Visto che chiaramente Stiamo mettendo board In maniera significativa Tutto dopo andremo di Marlock Hero power Lui va chiaramente traddato Mi giocherà sicuramente l'altro Ma questo non è poi Un grosso problema Vado di Murlock Vado di Hero power Traddo chiaramente lui Beh detto lui Non ha senso Anche perché Si potrebbe andare di Hero power Potrebbe giocare il Il mana portal Farebbe un devasto Cioè Totem Coin Mana portal Me vince la partita Ok per fortuna Non è andata proprio così Il mana portal Chiaramente ce l'ha Per quello ho detto Che aveva perso La vita però Vabbè Chiaramente tra da lui E ci sta Io chiaramente cari Andrò a giocare Penso il corsaro Il miglior drone In questo spot Il codo a me adesso Non piace A me il codo adesso Non piace proprio Chiaramente cari Leviamo tutta sta merda Per evitare che lui Possa avere una paglia Con il flint on totem Ripartiremo il tuo nuovo Col malascaglia Che è un mon drop a 5 Soprattutto perché 3-3 dovrebbe rimanere A meno che non mi gioca Il gel lighting Ok Totem chiaramente ce l'avevi Figliaccio del strozzo Va bene Malascaglia Traddo E passo Chiaramente sarebbe stato meglio Non il top Non il roll Del totem sbagliato Sempre quello sbagliato Perché avrei traddato Chiaramente il flint a un totem Il 6-1 come me lo tradda Con un altro portal Con l'arma Con il gel lighting Devolve va benissimo Devolve caro a me va benissimo Infatti Devolve va veramente Molto molto bene caro E questo te lo paglio traddo In maniera molto 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 easy Eh Giocata Interessante Interessante Chiaramente il segreto va giocato Cari questa navaglio Che voglio dire Abbiate pazienza È particolarissima Particolarissima Quindi codo Che c'è da di bono Trappola esplosiva Non è niente Gioco chiaramente il signore Traddo lui Chiaramente gli pingo lui C'è gli pingo Vado su lui E Come faccio a perdere questa partita È possibile Non posso perdere questa partita Difficilissimo che la perda Ma ripeto E a prescindere dalle vittorie Dalle sconfitte A me piace il deck C'è poco da fare Insomma Poi quando le metto in testa L'idea è quella Non mi piace C'è poco poco da fare Allora Questo è il codo Fatto per cui Ci riprendiamo chiaramente Il nostro dragoncino Molto probabilmente Quindi io Andrei in trade In maniera molto tranquilla Io in realtà potrei anche mettere board No però Poi so Fai un po' di vol Anche se Vabbè si Non ha già giocato uno Sti cazzi Traddo Traddo lui 9 danni cari Gli faccio un fascio Sotto la pepe Non fai glieli in faccia Alla fine Sì Vabbè rimane con 1-1 Ma Gioca in alto Flintone Totem Poco male in realtà Lui deve giocare Intorno alla freezing trap Quindi Ok Penso che questo Ha giocato intorno a snipe Sniping del cacciatore Quella che fa 4 danni E ci sta tutto E Non soffriamo praticamente niente Cari Non soffriamo Nulla Zero Perché abbiamo settato L'Italia del tono dopo Chiaramente Thrall Non c'è da probleme Volv non c'è da problema Capitano Valerouz Questo non c'è da problema 5 6 7 8 In qualche modo riesce Ok Volv ha perso Quindi carico Fammi capire Cioè Qual è Qual è stata la soluzione A questa situazione Pesca 10 carte Mi frattempo Allora cari Ripeto in definitiva A prescindere da questa vittoria Non è Un deck Che consiglierei Perché Può essere forte Come può essere Estremamente debole Lo stesso che ho fatto Con il mid hunter E così Vedete un po' voi Provatelo se volete Ma Quello che ho visto io E quello che è evidente Se partite male La partita la perdete Ed è frustrante Perché non c'è proprio verso Di vincere Poi potete fare delle giocate Che possano farvi vincere O farvi uscire In una situazione particolare No la perdete E c'è sta poco da fare Signori Spero che il video Comunque vi sia piaciuto Se si fosse lasciato un like Commentate Condividete Iscrivetevi Se non lo siete Un buon proseguimento di giornata Un grosso abbraccio E bene